Ciao ragazzi, comprate l'Ario Sportivo in tutte le edicole e sull'App Store. Scarica l'App dell'Ario Sportivo. L'Ario Sportivo in tutte le edicole. L'Ario Sportivo, compralo in edicole. Compra l'Ario Sportivo, non puoi non averlo. Almanacco L'Ario Sportivo, comprate in edicola. Ho tagliato più di 3000 foto. Compratelo in l'Ario Sportivo e scaricate anche l'App. L'Ario Sportivo, compralo in edicola. L'Ario Sportivo, non puoi non averlo. Scarica l'App per il tuo iPhone. L'Ario Sportivo, dalmanacchio più bello in edicola. Scarica l'App dell'Ario Sportivo sull'App Store. L'Ario Sportivo, non puoi non averlo. Compra anche tu l'Ario Sportivo, lo trovi in edicola e sull'App Store. L'Ario Sportivo, scarica l'App. Ragazzi, ho impaginato più di 100 pagine. Comprate l'Ario Sportivo. L'Ario Sportivo in tutte le edicole. Compra l'Ario Sportivo, lo trovi in edicola e nell'App Store. Scarica l'App dell'Ario Sportivo. Scarica l'App dell'App Store. Ragazzi, se volete sapere tutti i marcatori, tutti i coefficienti del calcio a 5, prendete l'Ario Sportivo e la sua App. In Italia, un almanaco così completo, ricco e figo, lo facciamo solo noi di L'Ario Sport. Compra l'Ario Sportivo, scarica l'app. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Ora tocca a te. L'Ario Sportivo, in edicola e sull'App Store. Noi ce l'abbiamo messa tutta.